In questo numero Quickie Media, il primo meeting dei web media pugliesi Time Travel, quando la storia viene a farci visita Tracce Verdi, l'educazione ambientale come inclusione sociale Domos, domotica sociale Le scuole pugliesi in pole position al Global Junior Challenge Ripartendo dalla lingua italiana, conversazione con Francesco Sabatini Donazione di organi e trapianto, incontro all'istituto Garibaldi Farma Volley, dalla strada alla serie C Partenariato con gli studenti di Goetting alla Marco Polo Piccoli crimini coniugali di Eric Emanuel Schmidt Dopo l'impressionismo, mostra al castello Svevo iPhone 5, moda o necessità?